La scuola? Ma era quindi nella stessa scuola in cui lei lavora? Sì Che ragazza era? No, veniva a scuola, nell'età, del terzo e media Dalla prima del terzo e media è stata da me Adesso c'è 23 anni ed ha finito Ma è sempre il sole di tutti Sì Quanto dovevamo stare in una casa? Infatti, no C'è un po' fa Sapevo che deve andare a mattino Io la vedevo passare Però non è che la conoscevo La frequentavo Che io Figurati c'è un'età, lei è vent'anni Dispiace perché era troppo giovane questa ragazza Però chissà i genitori adesso Che strazio Mi metto nelle mani dei loro genitori C'è una roba poi Guarda che ragazza che era Una ragazza formidabile C'è Un solare era Ma lei come? Si vedeva no Che era solare la ragazza Non è che era Era una ragazza normale Come tutte le altre ragazze di 20 anni Non era una ragazza di Come si dice Che fanno brutte cose Era una ragazza normale Bellissima Una grande Bella la mamma Tutti Guarda Io me la ricordo come sole Capelli lunghi Bellissima Però Non so Chi c'era dietro lì Ma era bella come sole Era rimasta sola in casa In questi giorni Bravo Ma lei sapeva di questo Zaccaria Del suo fidanzato Si L'aveva ancora visto qua? Si L'avevo visto che viaggiava qua Dopo non so Perdonami Che entra e usciva? Si Non voglio andare nelle rogne Perché non voglio essere L'ultima volta che l'ha visto Era Oggi cos'è? Sabato Sabato L'ho visto forse ieri sera Ma stamattina alle 5 e mezza 4 e mezza Qui davanti? In cortile dove? E viaggiava qua Nel condominio? Si Perché lui è successo a quella storia lì Cioè? L'avevo appena ucciso E sono morto Brava Eh Io guardi abito lì di fronte Ho detto Siccome Io li volevo tanto bene Grazie a tutti